ehi tu sei stanco di essere trucidato da 244 metri dal crighio hai finito tutta la lista dei santi da lanciare e non sei più a che santo appellarti non ti preoccupare il nike donne is here e sono qui per darti la soluzione al tuo problema giorgio mastrotta spostati eccolo qua lo stonerone nazionale certificato trucidatore di warzone con tanto di attestato attestato prezzi pazzi solo per oggi ma partire da domani passate che vi parla ragazzi siamo tornati con un nuovo video signori mei sto facendo le prove perché voglio diventare il nuovo giorgio mastrotta porco zi aspetta carim sto facendo la intro del video domani ti mando io aspetta capito carim porco zizu fra un po di anni mi vedete su tele gold a vendere i i i i letti senza cuscini benessi raga perché siamo qui oggi per darvi la soluzione al problema come tutti sapete già il griglio a stufatos e astrotos lisco leone come molti di voi già sanno che lo stonerone in realtà fa i i i i i ghiappe rosse al al krig proprio a mani basse ok raga prima di iniziare ovviamente vi chiedo una cortesia la precittoria del pubblico dei don iscritti che non è iscritto al mio canale si è lievemente alzato ovviamente raga vi ringrazio sono qui per chiedervi solamente di lasciare l'iscrizione al leggedone perché come sapete raga a voi non costa nulla ma a me date un supporto veramente enorme quindi io posso solo che ringraziarvi anticipatamente per tutti quelli che si iscriveranno proprio per darvi la build nazionale e spiegarvi due cose sullo stonerone allora raga lo stoner è micidiale è un laser fatto è finito e molti di voi che penso presumo già stiano usando sanno benissimo di quello che sto parlando allora c'erano delle differenze chiaramente è il krig è un fucile d'assalto e fin qua ci siamo tutti un pochino più veloce soprattutto nei movimenti lo stoner comunque quando ti muovi corri sembra io personalmente sembro minonno e quindi ovviamente è un po scomodo bisogna farci semplicemente l'abitudine però vi posso garantire che attualmente l'unica soluzione al problema krig perché innanzitutto ha un rato di fuoco esagerato lo stoner ed è molto molto più potente in complesso lo stoner e scusate il krig è un pelino più facile da usare ma vi posso garantire che lo stoner non è di sicuro difficile nel caso da usare anzi anche lo stoner è molto semplice da usare c'è solo quella differenza lì quindi se imparate a usare lo stoner e a controllare al meglio quelli col krig gli fate la festa proprio ci fate un funerale proprio in questo caso allora silenziatore agency canna task force da 21,8 ottica arial aros per 3 potete anche optare per un per 4 preferenze chiaramente è solo vostra impugnatura field agent ovviamente e impugnatura rivestimento elastico airboard molti di voi no perché non metti 120 allora no raga no ovvero sì 120 colpi può darsi che effettivamente in certe situazioni può essere ottimale perché comunque i 45 colpi in più rispetto a mare perché di base come sapete ha 75 colpi il problema che cos'è che comunque con i 120 colpi tenete l'arma di base molto lenta invece con l'impugnatura la velocizzate proprio in entrata in modalità mirino è quello che fa la differenza in realtà su molti gunfight proprio perché il krig è veloce ok e come sapete se qualcuno inizia prima sparare ovviamente può solo che averne la meglio rispetto a voi quindi per compensare proprio questo problema con rivestimento elastico entrate in modalità mirino praticamente come un krig e li laserate l'unico problema ovviamente raga ricarica sto nerone è un bel un bel bestione ci mette i suoi 3 4 secondi per ricaricare ovviamente un accorgimento che poi dovrete avere voi in game nei punti morti ricordarvi di caricare anche se avete che ne so 30 colpi 20 colpi ricaricate sempre in modo tale da essere sempre pronti durante un gunfight comunque con 75 colpi su un stoner raga vi fate un team da 4 senza problemi ve lo dico perché mi è capitato quindi in realtà il problema non si pone nel senso a meno che non smirate veramente così tanti colpi allora vi dico sì mettete i 120 colpi perché se smirate come i pazzi magari avere colpi in più può essere la risposta al vostro problema ma in realtà la chiave di volta è proprio questo l'impugnatura in modo tale da essere competitivi in entrata modalità mirino con il criglio quindi ragazzoni me adesso vi lascio video fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate dello stonerone nazionale noi come al solito ragazzi me ci vediamo alla prossima bella l'obiettivo principale è farlo ma lei piace all'antelostra ma guarda dove oh mada padre ci sono nemici questo va a ua iu ma grazie uno si è arrestato la godo 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 non mi rubi tutto signor naked no no non ho toccato niente io me lo giuro non ho fatto sopra c'è uno dentro la madonna incoronata godo godo come obbiccio strasudato c'è chi nello c'è chi nello c'è chi nello attenzione non è chiaramente scammato ma prima ho fatto 3.000 danni 3 kill capita capita Dio Dio è un cieco dietro è incassato non ha beccato ancora la furia del nazionale c'è chi è chi è chi su dentro il pato c'è chi ha fatto uno di fronte fatto altro si succhia bersaglio taglia a contrasignare è qua qui c'è una corazza Cammata Tanta parte porco dudu No no giù giù Hittato Hittato Basta L'ho atterrato un altro Oh ma questo è un nemico raga Dai 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 Ti avevo l'arma scarica Ti giuro mentre correva mi ha dato No frate non hai capito Mi ha dato uno spintone con la spalla Per scappare Non mi ha sparato Minaccia Questo è tutto raga E' maschera sacca Mettano quattro dietro Non so che salgono sopra Come è partito dai massi Quattro dove stanno Non li facciamo Che la fune Gassi in avvicinamento Nemico avvistato Oh signora Ce ne hai due qua sotto Rai Vengo con te E' due a sinistra Bravo Bellissimo C'era un altro Oh sopra Porco Che cazzo Ho lanciato Sto coglione C'è qua Fatto 17 metri A 75 Eccolo A terra Vittoria Bravi raga Ben fatto Ah vabbè Vabbè